Ora, novità della nostra azienda, abbiamo acquistato due furgoncini per quanto riguarda il nollegio, quindi abbiamo diversi clienti che hanno piccole risotturazioni o dei piccoli traslocchi che spesso e volentieri ci chiedono dei piccoli furgoni per il trasporto di ingombranti o quant'altro presso il nostro centro e quindi usufruiscono dei nostri furgoni a nollegio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.